Manca scaiola, ma la firma per prolungare la cassa integrazione per l'Antonio Merloni arriva. La firma che arriva da Roma è quella di Silvio Berlusconi, in qualità di ministro allo sviluppo economico. Ancora 12 mesi di ammortizzatori sociali per i 3.000 lavoratori del colosso elettrodomestici. Un anno ancora a 700 euro al mese dopo 18 mesi tempestosi e incerti. Una buona notizia, dice il governatore Spacca, che ringrazia il presidente del Consiglio per la tempestività. Ora, prosegue il governatore, richiediamo che si dia impulso con altrettanta tempestività alla riapertura del bando internazionale per l'acquisizione dell'Antonio Merloni e quindi alla verifica dei progetti industriali annunciati. Si fa dunque riferimento all'accordo di programma firmato in prefettura d'Ancona proprio negli ultimi giorni della campagna elettorale per le regionali. È positivo questo allungamento dei termini per gli ammortizzatori sociali, dice Giuseppe Ciarrocchi della FIOMCGL, ma di altro non c'è nulla, niente di concreto, dice il sindacalista. I cinesi, i turchi, sembrano dunque bolle gonfiate all'ombra dei manifesti elettorali, ma di fatto, dice Ciarrocchi, siamo ancora fermi a un anno fa. Nonostante le passerelle e il beneficio mediatico ed elettorale che dalla Merloni hanno tratto un po' tutti, dice Ciarrocchi, non c'è ancora niente di concreto. E gli anni passano in un percorso in salita, specie per chi tira avanti una famiglia intera con un assegno da 700 euro. Tutti auspicchiamo che arrivi qualcuno per comprare tutta la baracca, ma per ora è solo la pagina di un libro dei sogni, che può essere pericoloso, dice Ciarrocchi, può creare false illusioni in chi spera solo di tornare a lavorare.